In tema di coronavirus è stato prorogato lo stato di emergenza come ben sapete fino al prossimo 15 ottobre. L'ok è arrivato alla Camera dopo il Senato ed era stato proclamato il 31 gennaio per sei mesi quindi avrebbe dovuto esaurirsi alla fine di luglio. Prima cosa da sapere non significa nuovo lockdown per evitare di confondersi. Per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la proroga è una scelta inevitabile e obbligata fondata su valutazioni meramente tecniche quindi si continua con tutte quelle misure che rendono l'Italia un paese sicuro. Ma cosa significa nel dettaglio? Noi procediamo per punti. Intanto questa è una misura che prevede in linea generale una maggiore rapidità di intervento da parte del Governo in caso se ne presenti naturalmente la necessità sotto il profilo epidemiologico nella gestione dell'emergenza sanitaria così come consente di dare continuità al lavoro del commissario straordinario Domenico Arcuri e in genere a quello della protezione civile. Altro punto nello specifico la proroga dello stato di emergenza consentirà al momento in cui dovessero presentarsi sul territorio nazionale eventuali nuovi gravi focolai in grado proprio di istituire delle zone rosse da parte del Governo cioè delineare quelle zone a rischio dalle quali non si può né uscire né entrare. In materia di ripartenza delle attività nelle scuole a settembre il provvedimento dovrebbe consentire di procedere in tempi più celere all'acquisto di tutti quei materiali che servono per preservare la salute pubblica per esempio gel per la disinfezione delle mani, mascherine, banchi, eventualmente plexiglass dove siano indispensabili il tutto attraverso dei percorsi agevolati quindi affinché si possa agire tempestivamente. Inoltre sarà possibile per il Governo reperire se necessario ulteriori posti letto in strutture differenti da quelle ospedaliere per esempio ci riferiamo ad alberghi o caserme naturalmente solo nella reale ipotesi di un ritorno importante del coronavirus. Altra possibilità riguarda la possibilità appunto di bloccare i voli da e verso quegli stati che dovessero presentare situazioni particolarmente gravi sotto il profilo sanitario o che comunque dovessero essere ritenuti a rischio. Un ulteriore capitolo poi riguarda anche lo smart working, il lavoro agile. Finché dura lo stato di emergenza quindi ricordiamo fino al prossimo 15 ottobre sia i dipendenti pubblici sia quelli privati potranno proseguire l'attività lavorativa da casa ovviamente previa con consenso dell'azienda quindi deve essere una scelta concordata. Secondo ciò che è previsto nel decreto rilancio il lavoro da casa per i dipendenti della pubblica amministrazione potrà a vario titolo proseguire fino al 31 dicembre. Ultimo punto che vi segnaliamo altra diretta conseguenza sulla proroga la si avrà in merito alle pensioni in che modo con i termini di pagamento che saranno di volta in volta anticipati quindi non è un nuovo lockdown è un modo semplicemente per far sì che l'Italia possa sentirsi più al sicuro. Queste sono le pillole formative e informative di Le Fonti TV. Alla prossima!